Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Spada Nello scorso episodio abbiamo esplorato Killford E in questo episodio affronteremo Azzurra, la capopalestra di Killford Quindi vi invito a iscrivervi a lasciare un mi piace o non mi piace E piccola cosa, off camera, si ho fatto roba off camera Nell'attesa che venisse trasferito il video Ho fatto una piccolissima cosa, ma proprio piccola Ho trovato un ride di Butterfree Mio Dio, quanto è facile Cioè io pensavo fosse difficile, così Se vi viene dato un assistente Weavile Mamma mia è una cavolata Weavile lo manda già a metà vita con un attacco ghiaccio Poi io sono andato con Corby Squire Gli ho fatto il Dynaget, l'ho one-shotato praticamente È devastante Ora Fa abbastanza schifo Anche se deve essere un attaccante speciale, ma meh Comunque, Ronzio Si coraggio, raffica e paralizzante Può essere una buona scelta A parte può Può fare il Gigamax Però Meh, sinceramente Ora Basta, ho fatto solo quello Ho preso un po' di bacche E Dovrei aver ottenuto una mossa Ora, non mi ricordo quale A parte si, ho trovato anche un Desio Blocco Tanto per Comunque La baccafica ho ottenuto Quindi, sì Però Ecco Psicoshock ho ottenuto Fa male Psicoshock Sì, fa male Allora Poi che ho ottenuto Vabbè Tre perle Ho trovato Quindi non importa Comunque Vi invito a scrivere A lasciare un mi piace Non mi piace L'ho già detto E partiamo subito Stadio di Killford E basta Ok Ehi là Chi si rivede? Chi sono? Che domande? Sono io Il tuo affezionatissimo ballino Ma quello È un amo? Colgo la palla al balzo Per regalarti una Pokéball Davvero Irresistibile Eskaball Particolarmente È buona contro i Pokémon pescati Con l'amo A cosa serve l'eskaball? Ok Che razza di ballo è? Non lo sai? Guarda che Che esco Guarda che esco Me ne vado Ok Questa è carina Come meme Scherzo Serve a catturare Più Più facilmente I Pokémon pescati È consigliata Per chi ama I Pokémon Di tipo acqua Pazzesche le Pokémon Vero? Ce ne sono Per tutti i gusti Ce ne sono davvero Per tutti i gusti E ora Ho capito Il Il senso Esco Esca Mio Dio Che gioco di parole Allora Qua niente Tu Tu eri Oh mio Dio Dream Riuscirai a sconfiggere Azzurra? Vero? Promettimelo Ok Ora che ci penso Devo ancora parlare Con quella Che aveva detto Che ricordava Il mio nome Quindi Ok Perché per arrivare Dalla capopalestra Devo risolvere Un enigma? Forse vuole mettere Le capacità Intuitive Degli sfidanti Ok Allora Te Per sapere Cogliere l'attimo È fondamentale Quando si tratta Di Dynamax Vale la pena Considerare Bene Quale Pokémon Scegliere Per resistere Agli attacchi Dynamaxizzati Di Azzurra Ok Allora Tanto per Vendo Tutta la roba Che ho preso Quindi questa E due di queste Così facendo A parte L'Escable Ehm Come dire Posso comprare Un po' di cose E mi conviene Allora Antidoti Penso di no Un po' di Revitalizzanti Tanto per Perché sono sicuro Che Toxic Ehm Come si chiama? Toxel Toxel Sì Che Toxel Andrà a KO Ricordo che la conchinella L'ho ottenuta Nello scorso episodio Quindi andatevelo a vedere Allora In caso di emergenza Userò Boltand Ho già scelto Ehm Applin Meglio rimuoverlo dal team Perché non voglio che si faccia male Come dire Allora Ehm Chi posso mettere al suo posto? Tanto per Ehm Tanto per Ehm Ehm Va bene Andiamo Ora Nel caso Userò anche le caramelle Quindi Sì Benvenuto Sfida palestre Cominciamo subito Con i preparativi Per la palestra Certo Bene Prima di tutto Bisogna indossare La divisa Oh La divisa Ti sta alla perfezione Ok Ora Puoi iniziare La La missione Ah Prima che tu vada Ricorda che Durante la missione Non potrai usare Il box pokemon Non ne La missione della palestra di Kilford consiste nel superare il labirinto e raggiungere il traguardo. Delle cascate di acqua ti sbarreranno la strada. Come farai a passare? Beh, se provi a premere quel pulsante rosso, lo scoprirai. Ebbene, che abbia inizio la missione! Ok, a parte questo, se non erro, questa missione c'era nella demo, però io ovviamente non l'ho fatto. Non sono andato alla... ok. Non sono andato a fare la demo, quindi mannaggia a me. Comunque, sì, userò Toxel, non mi andare K.O. Toxel. Benvenuto allo stadio di Kilford. Lasciati inondare dall'eleganza delle mie mosse di tipo acqua. Alice! Ok. Che manda Temple. E comunque, lo so, non so perché io lo chiamo Tainamo. Non so davvero il perché. Comunque, elettro coccola non è tipo terra, vero? Colpo di fango. Cosa ho detto? Vai Corby Squire. Ripeto, sono indeciso se usare le caramelle, perché se uso le caramelle è una liberazione. Allora. Ce l'ho l'erba amara, vero? Sì, ne ho tre. Poi le posso comprare lì vicino, quindi non c'è problema. Allora. Coro, va bene. Coro è veramente... Ora, non inutile, ma nelle lotte in doppio, mio Dio, se fa male. Allora, spennata e ciao ciao. Time Pool, sì. Abbastanza di tese, però deve essere un... Come si chiama? Ora mi sfugge il nome della forma evoluta. Però davvero è buono. Ve l'assicuro. Un tipo acqua terra può fare robe. Allora, ok. Sconfitta. Bloob. Boccheggiamo come Time Pool for d'acqua. Non l'ho capita. Comunque. Ok. Allora. Questo. E siamo al primo enigma, come dire. Allora. Perché questo con quello... No, posso passare così. Allora. Ok. Toxel, non mi andare di nuovo. K.O., ti prego. Premendo i pulsanti puoi fermare l'acqua. Ma fai attenzione. Devi farlo con l'ordine giusto. Emilia. Che manda Krabby. Ok. Ok. Calmi tutti. Ricordo Krabby è un difensore fisico, attaccante fisico. Può imparare ghigliottina. Però dovrebbe... Ok. Ok. Ok, mi ha sparato un dot. Cavolo. Ehm. Ora. Mulinello. Sì, sì. Ha visto nella... Su Pokémon Let's Go, se mi ricordo. Sì. Dovrebbe essersi visto. Allora. Mulinello dot. Fa tanto danno, Mulinello. Ovviamente se stab... Ecco. Mamma mia quanto danno. Allora. Elettro coccola. Ah. Se almeno questo coso imparasse mosse elettro. Oioi. Allora. Rafforzatore. Cioè nel senso imparasse mosse che io ho da dargli. Però invece non le impara. Ah. Ok. Maremma che danno. Ehm. Vai ancora. Dovrebbe durare per cinque turni tipo Mulinello. Quindi abbastanza. Allora. Rafforzatore. Ah, bellezza. Ora ti sparo un acido che davvero non hai idea. Allora. Curati. Ok. Perdo quattro PS alla volta praticamente. Allora. Acido. Ehm. Devasto. Ripeto. Crappy è un difensore fisico. Difensore speciale assolutamente no. Allora. Ok. Curati ancora. Bravo. E dovrei essermi tolto il dot. Come dire. Vero? Allora. Corfish. Aio. Allora. Corfish. Stessa cosa. Ma state attenti. Corfish è molto forte. Allora. Elettro coccola come sempre. Ok. Vabbè. Paralizzato. Ok. Paralizzato. Very good. Allora. Curati. Perfetto. Stavolta ho recuperato tre. Eh. Acido. Dovrebbe essere un difensore fisico. Corfish. Ripeto. Esatto. Molto fisico. Bolla raggio. Non dovrebbe farmi. Ok. No. Attaccante speciale. Corfish. Corrish. Mamma mia. Eh. Dai. Su Toxel. Una volta ce la fai a vincere. Ah. Per poco. Anche te mulinello. E che cavolo. Resisti. Allora. Tanto dopo ti uso una super pozione. Effetto di mulinello. Quanto perdi? Mamma mia. Cinque. Eh. Acido. E dovrei aver vinto. Perfetto. Ok. Tra un po' gli altri vanno al venticinque. Quindi cavolo. Allora. Emilia sconfitta. Ho perso contemporaneamente la bu- Completamente la bussola. Non sapevo. Eh. Non sapevo più che strategia adottare con te. Allora. Adesso curiamo Tox. Perché mio Dio. Allora. Che devo fare? Ok. Ho capito. E adesso. Attivo questa. Allora. Proseguiamo tanto per. E. Proseguiamo tanto per. Allora. Devo andare di qua. E devo attivare quelle blu. Ora. Facciamo così. Ora. Questo. Ok. Eh. Sì. Dai. Vai. Oh no. Sei arrivato fin qui. E adesso. Dovresti lottare con me. Amelia. Che manda in campo. Ok. Ho confuso i nomi. Mamma mia. Ho confuso i nomi. Meno male. Allora. Elettro coccola come sempre. Mulinello. Ma qui spammano solo mulinello? Mamma mia che male. Forza. Ok. Oioi. Cioè. Qua spammano solo mulinello. Solo e soltanto mulinello. Non fanno altro. Allora. Acido tanto per. Ok. E comunque. Perché uso acido se elettro coccola è super efficace? Tox è un attaccante speciale. In realtà sarebbe attaccante misto ma. Vabbè. Ehm. E' attaccante speciale. O meglio. Ehm. Ehm. Ha più attacco speciale. Se riuscissi a vederlo. E' su pokemon. Ehm. Dicevo. E' più attaccante speciale che attaccante fisico. Quindi acido è più utile. Come dire. Allora. Ehm. Acido ancora. Per chi non sa. Vabbè le basi. Ehm. Ok. K.O. Perfetto. Allora. 25. Tox è l'aumenta di livello. Ti prego. Allora. Reset sta andando veramente bene. Carcol pure. Veramente. Veramente bene. Perfetto. Allora. Sutle. Ok. Ehm. Ehm. Sì. Lo lascio in campo. E poi lo cambio. Visto che. Ehm. Sutle. Attaccante fisico. Mi shotta. Mi shotta davvero. Ehm. Ehm. Corvisquire. Mamma mia. Questo mi sa. Ha ferro mascelle. Come abilità. Spennata. Ok. Ancora morso. Mamma mia. Ok. Cioè. Un Sutle. Mi stava mandando. Mi stava mandando. K.O. Un Corvisquire. Ok. Livello 25. Attacco fisico. Bello alto. Ok. Amelia sconfitta. Che potenza. È naturale che tu e i tuoi Pokémon ci abbiate sconfitto. Allora. Andiamo così. Poi così. Perfetto. Ehm. Proseguiamo. Allora. Di qua c'è altra roba. No. Abbiamo finito. Ora serve solo l'enigma. No. Mi sono bloccato. Come si fa? Allora. Devo attivare questo. Che ho attivato. Ora però devo attivare il rosso. No. Che devo fare? Perché devo attivare il blu. Se attivo il blu. Un attimo. Forse c'entra questo. Questa scala. Allora. Qua il blu è attivo. Qua il blu è attivo. No. Non posso fare nulla. Ok. Ehm. Sono un po' confuso. Allora. Il rosso blocca questo. Però. Libera questo. Devo attivare il blu. Però il blu blocca quello. E il giallo. Ehm. Eh. Nel caso tanto faccio un taglio. Se è troppo lungo la cosa. Allora. Questo. Poi. Attivo questo. Ok. Mi sto avvicinando alla soluzione. Sembra. Attivo questo. Poi vado con questo. Ok. È solamente da. Sbloccare prima il giallo. Poi il rosso. E alla fine il blu. Non serve altro. Ok. Ho curato i miei Pokémon. Vero? Sì. Li ho curati. Perfetto. Missione compiuta. Ok. Andiamo da azzurra. Benvenuto sfida palestre. Ci siamo già conosciuti. Ma lascia che mi presenti ufficialmente. Io sono azzurra. Mi spiace che sia dovuto... Che ti sia dovuto disturbare a cercarmi. Modestamente parlando, la missione del mio stadio è piuttosto ostica. Eppure tu sei riuscito a superarla. Questo dimostra la tua arguzia. Tuttavia, io e i miei Pokémon manderemo a monte tutte le strategie che scogiterai. Parte la sfida di azzurra. Capo palestra. Che manda Goldin. Ok. Ehm... Elettrococcola, come dire. Però, eh, Goldin è velocissima. Ed è fisica, soprattutto. Ok. Paralizzata. Very, very good. Allora. Ok. Ehm... Acido. Non gli ho fatto praticamente nulla. Mamma, mamma mia. Questo Goldin è forte, mi sa. Allora, curami. Avanzi, grazie. Allora. Elettrococcola ancora. Ok. Agilità. Ehm... Ok, va bene. Aumenta di molto, quindi può anche superare la... La paralisi. Infatti di velocità. Allora. Ehm... Acido ancora. Incornata. La miseria. Abbasso la difesa speciale, per favore. Allora. Acido ha una possibilità di abbassare la difesa speciale. Perché non l'abbassa? Boh. Allora. Eh, no. Lo cambio. Non voglio che mi vada K-8 Oxel. Ah! Panto vorrei usare Boltand. Ehm... No, Corbis Quire. Ok, incornata ancora. Eh, fa abbastanza male anche a Corbis Quire. Allora, spennata. E ciao ciao. Perfetto. Ok, livello 20 di Toxel. Ok. Eh... Arrokuda. Ok. Ehm... Toxel, per il momento. Gli do XP. Eh... Chi è Arrokuda? Arrokuda? Sono leggermente confuso. Ah! Ho capito, ho capito chi è. Mamma mia, è pericoloso. È pericoloso. Aio. Ehm... No, avevo detto in caso di emergenza. Ehm... Corbis Quire, di nuovo. Allora, Arrokuda, state attenti. È un attaccante fisico forte. Ma veramente, veramente forte. Ah! Cavolo, acquaggetto. Ok. Meno male ha una difesa alta con Corbis Quire. Ehm... Spennata. Acquaggetto ancora. Vabbè, priorità. Mamma mia. Mandalo, K.O. Vai. Acquaggetto ancora. Ok. Allora, Dreadnought. Oh mio Dio, Dreadnought. Ehm... Allora, Toxel. Mi resta un solo Pokémon. Ma è la perla più brillante della mia squadra. Allora, Dreadnought. Mio Dio, è un attaccante fisico devastante. E, ovviamente, acqua roccia. Quindi, se avete un tipo erba, siete fantastici. Allora. Dreadnought, inonda lo stadio con la potenza traboccante del Dynamax. Abbiamo un regalino per te. Incassalo se ci riesci. Dreadnought, inonda lo stadio con la potenza traboccante del Dreadnought. Wow. Proprio wow. Allora. Ehm... Devo mandare Boltand. Non ho... Non ho chance. Allora, tanto per... Ok. Questo è il secondo turno. Allora, Boltand. Vai. Almeno questa è l'ultima lotta che faccio con lei. Allora. Dynamax. Dynasaita. Dynamax. 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 VMAAS. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E campo elettro, mio Dio, che combo. Allora. Sì, dai. Con chi l'ama. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Io e i miei Pokémon migliori siamo stati trascinati via dall'impeto della tua potenza. No, non posso crederci. Non posso far altro che ammirare il tuo talento. Tu e la tua squadra avete lo spirito necessario per affrontare tutti gli ostacoli che vi troverete davanti durante la sfida delle palestre. Sono sicura che il vostro ingegno vi guiderà dritti alla lotta contro il campione. Meritate appieno, titolo, la medaglia di questa palestra. Ora puoi catturare i Pokémon fino al livello 30. Ora dovrete affrontare il capopalestra di tipo fuoco. Sono sicura che sarà più facile... Che sarà più... Che... No. Sono sicura che sarà più che felice di mettere alla prova la vostra forza. Dream, sei riuscito a sconfiggere Azzurra? Complimenti! Per festeggiare voglio regalarti questa MT. In più, eccoti in omaggio una replica della divisa della nostra capopalestra. Se siete riusciti a ottenere la medaglia acqua, vuol dire che avete una grande... Un gran potenziale. Vi terremo d'occhio. Ok, allora, innanzitutto... Vedo che hai superato la missione dello stadio di Killford. Complimenti! Ora avrai accesso a nuovi articoli. Grazie mille, non l'avrei mai detto. Allora, quali articoli sono? Oh, grazie! La Pokébambola. Allora, ne prendo sette tanto per... Ah, perché ogni volta prendere, andare nelle terre selvagge, cambiare con... Come si chiama? Con... Dov'è? Con Vulu ogni singola volta. Mio Dio, è una rottura. Ok. Allora, te mi dici qualcos'altro? Che bello! Come sono felice di essere una tua fan. Ok. Allora, andiamo. Il presidente ti aspetta al frut... Al frangifrutti di mare. Eccoti la sua card della Lega Pokémon. Così lo riconoscerai... Lo riconoscerai facilmente. Non farlo attendere. Il presidente Rose non ama procrastinare gli impegni. Ti aspetta al ristorante frangifrutti di mare. Non farlo attendere. Che razza di parola è procrastinare? Ok. Allora, da notare che è il tramonto. E mio Dio, voglio vederlo dal faro. Ah, ultima piccola cosa. E poi chiudo l'episodio. Mio Dio, com'è bello! Ma, aspetta... Ok, si dovrebbe vedere a malapena. Ma quel tizio lassù e Wingal hanno un contorno blu. Ok. Allora, proseguiamo andando al centro Pokémon. E curando ovviamente il team. Però è già curato. Voglio vedere questa cosa e basta. Ok, no, è totalmente curato. Perfetto. Ah, Boltand. Che cavolo. Comunque, nel prossimo episodio di Pokémon Spada andremo al ristorante frangifrutti di mare. Qua c'è qualcosa? No. Ok, quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace e al prossimo episodio. Ciao!